sicuramente abbiamo affrontato una buonissima squadra stai facendo come i nostri diversi calciatori li ho allenati, per allenarli sono bravi è una bella squadra, ho affrontato molto sulla coppa e non era semplice, però diciamo che i ragazzi sono stati bravi a non far giocare gli avversari è chiaro che poi queste sono partite tirate dove devi essere bravo a concretizzare quello che crei siamo stati bravi senza palla siamo stati bravi senza palla a cercare di non far giocare gli avversari alle varie tempi e spazio è chiaro che quando giochi al calciotto è il campo più ristretto è il campo più piccolo, quindi devi essere bravo a chiedere tutti gli spazi sono stati bravi i ragazzi, hanno fatto questo poi io lo nostro gente come Gallaccio e via dicendo quindi sono giuratori bravi, se gli fai giurare fa una differenza no, in realtà mi è apparso di vedere qualcosa però è chiaro che sinceramente me l'ho anche dimenticato c'era il VAR però poi dopo anche i ragazzi mi hanno chiesto di chiedere il VAR e abbiamo visto se c'è è buono anche vederlo grazie allora Fabio